C'è una storia fatta di piccoli gesti che possono cambiare il futuro dell'agricoltura. Una storia che parla di dedizione e di amore per la terra. Una storia in cui sostenibilità e innovazione sono risorse per la tutela del territorio e contrasto al cambiamento climatico. È la tua storia. Istat ha bisogno di protagoniste come te, che giorno dopo giorno scrivi un nuovo capitolo dell'agricoltura italiana. Racconta il tuo progetto con un breve video e partecipa al premio Donne e Sostenibilità. Un modo concreto per valorizzare le imprenditrici e le lavoratrici del settore agricolo che mettono il proprio lavoro al servizio dell'ambiente. Scopri di più